Delle collezioni Fine Art by Di Mano in Mano oggi vogliamo presentarvi questo mobile realizzato nel 1990 da Stefano Bini su un collage di Enrico Bai del 1961. È proprio a partire dagli anni 50 che l'artista iniziò a sperimentare con i collage e con diversi materiali, infatti l'opera che funge da modello è carta con inserti in tessuto ed altre tipologie di materiali e ovviamente l'assemblaggio è realizzato con materiali moderni come le colle viniliche. La particolarità è che Stefano Bini riprese pienamente anche quella che era la simmetria, infatti come vedete il mobile non è assolutamente simmetrico. Curiosità è che Bini realizzò solamente otto esemplari tratti dal collage di Bai e qui abbiamo uno di questi.